Mike Bird, sbotta ad Amici 16. Il giovane allievo della squadra bianca ha perso la pazienza ed ha minacciato di lasciare il programma. È successo oggi, nel corso della striscia quotidiana del talent, andata in onda su Real Time. Abbiamo visto Emma provare insieme a lui un pezzo, sono solo parole, di Noemi. A un certo punto gli è stato fatto vedere un filmato in cui la giuria dello show di Maria De Filippi esprimeva un'opinione su di lui. Due giudici in particolare, Eleonora Bagnato e Daniele Liotti, hanno fatto delle valutazioni ben argomentate, più che altro volte ad aiutare il giovane Mike. Tuttavia quest'ultimo non l'ha presa affatto bene e anzi, è andato su tutte le furie dopo aver udito quelli che per lui sono degli attacchi e non dei giudizi. È sbottato e ha manifestato la volontà di lasciare amici. E così, lasciata la stanza in cui era insieme alla sua direttrice artistica, si è sfogato. Arrivando a dire di volersene andare a casa. Mike, ha detto, ma che cazzo. Mi girano i coglioni, vorrei andare a casa. Tutti bravi, e io l'unico stronzo che non fa una cosa buona, mai. Tutti bravi, e io l'unico stronzo che non fa una cosa buona, mai. Tutti bravi, e io l'unico stronzo che non fa una cosa buona, mai.